ciao raga ecco io sto continuando con la mia vespina personale perché quella blu è andata in pensione ora c'è da addirizzare un pochino perché ancora è un po storta però quello che conta per addirizzare sono questi bordini questo ricciolo non l'hanno fatto sia a caso ma è un rinforzo della lamiera quindi si va a tirare e si va a ribattere per rifare i riccioli noi d'accordo poi continuiamo in questa smerigliare questo lavoro a scattare e cercarla di tornare di farlo tornare il più liscia possibile per cercare di evitare di mettere più stucco possibile hai ragione mire meno stucco bravo è appunto io la penso così ora che va si dà una bella smerigliata stiamo attenti a il nuvole telaio sennò si smeriglia anche quello e poi bianche vello dopo addio nini questa grisotopo riguarda le t3 mire si è però lì c'era topi e invece questo lei colore originale poi ora c'è anche sto fan se mi si vedete qui vedete ora non è non è esagerato e non è esagerato che posso vedere con un pezzettino di legno non è esagerato vabbè qui si ribatte e si butta fuori come qui è poco ma poco vuol dire anche tanto quindi battiamo piano piano e cerchiamo di addirizzare il più possibile nel video ho fatto vedere c'era la spaccatura guardate già non si vede più perché un po l'ho addirizzata quindi un puntino un listellino sotto a girare di saldatura di rinforzo e almeno si spera che non si spezza più e nulla che vi devo dire vi dico vi dico vi dico vi dico che anche qui c'è un'altra botta però qui ci frega perché c'è la staffa ma non mi fa paura perché io prendo la puntatrice la pico e tiro indietro chissà cos'è la puntatrice tiro indietro e questo lo ritiro invece di battere dall'interno mire c'è tutto se si e ciò me lo faccio prestare nulla e niente alla prossima raga farò vedere fortuna c'è anche la chiavina sua l'unica vespa che ancora non devo chiamare il blocco non devo cambiare il blocco stesso perché questa funziona sulla perdere mire e lo so una perdo c'ho solo quella va bene ciao raga e visto mi aveva detto ventrilo ventrilo e ho detto va rifacciamo questo video in questo modo va bene un salutone raga ciao ciao da mire condividete mettete like non video dislike perché l'ultima volta l'ho detto dopo dieci minuti avevo messo il video c'era belle nove dislike va bene e alla fine ai decimo dislike gli regalo un ciao ciao raga fiiiischiaaaaa